Ragazzi vi raccomando, veloci, anche domani abbiamo le consegne, eh? Veloci! Veloci, veloci! Ah, Don Matteo! È venuto per la benedizione, eh? Beh, veramente, oggi tu ne avresti bisogno. Ma mi dispiace, ho dimenticato gli attrezzi. Un sigaro. E che c'è da un sigaro? Questo sigaro mi indriga. Un uomo o una donna che fuma il sigaro? Mi permette? Posso azzardare un'ipotesi, commissario? A occhi e croci mi sembra il suo. Sono dieci giorni che non fate altro che parlare di macchine, di barche, di fighe, di carte di credito. L'unica cosa giusta l'ha detta lui quando era fumato. Eravate meglio quando avevate vent'anni. Fermi, fermi tutti. Sorge un grave problema. Il nostro santo l'amata ha un bisogno urgente, quello grosso. Ma perché? Che problema c'è? Il bagno di qua non va bene. Ma è pieno di specchi, c'è uno specchio enorme davanti al vato. Lo specchio è il suo nemico. Se mi evacua davanti a uno specchio, mi si blocca, è finita. Ma perché? Ha! Ma perché? Ma perché?